Quando si parla di vino si parla di terra, di territorio, vino come tutti i prodotti che noi mangiamo, ci alimentiamo e vengono la terra. L'importanza quando si parla di un prodotto, in questo caso del vino che comunque alla fine è un alimento perché oggi meno ma una volta i nostri contadini quando andavano in campagna a parte di mangiare si alimentavano col vino, era un alimento in tutti i sensi. Dobbiamo parlare di terra, stiamo parlando di terra di Puglia, siamo ad Orsara di Puglia, sui Monti Dauni, queste colline dolci, qualcuno, un mio amico poeta diceva queste colline dolci come i seni di una donna, sono proprio da carezzare. Su queste colline c'è una terra ricca, c'è una terra generosa della quale nasce di tutto, però la vite ha un suo habitat naturale. Nel passato si coltivavano vitigni che venivano poi tramandati di padre in figlio e uno di questi vitigni che poi era scomparso nel tempo era il tuccanese. Questo tuccanese che si era perso, poi qualcuno ancora lo coltivava, qualcuno chiamava anche altri vitigni tuccanese, però ecco la curiosità dell'uomo, in questo caso la curiosità di Peppe Zullo. Cerchiamo di capire che cos'è, da dove viene questo tuccanese, abbiamo fatto questo progetto insieme all'Università di Foggia, l'abbiamo fatto insieme al professor Taricone dell'Istituto della Vita e del Vino di Ture e abbiamo cercato di capire, abbiamo scoperto questo vitigno, l'abbiamo ripiantato, innestato, ci abbiamo lavorato e abbiamo tirato fuori questi vini che sono ecco poi tipici di questa terra, che è la terra di Orsara, fatti con questo tuccanese. È un vino che ci sta dando bellissime soddisfazioni, sta piacendo moltissimo, addirittura uno di questi due è il nostro Ursaria 2003, premiato a Los Angeles con una medaglia d'oro. Per noi contadini, per noi di questi monti sperduti, avere questi riconoscimenti è una cosa molto molto bella. Un vino alla quale ci stiamo lavorando, lo stiamo coccolando come se fosse un bambino, lo stiamo facendo crescere e viene apprezzato, piace, fa stare bene, ogni tanto fa felice, emozione le persone, è quello che noi vogliamo, emozionare, far star bene la gente, quando sono da noi giù in Puglia, giù nella Daunia e quando sono per il mondo e possono avere la possibilità di bere il nostro vino. Sono Claudio Sanmarco, un sommelier della Puglia, presentiamo il tuccanese, il tuccanese rappresenta uno dei vitini autoctoni di vecchia data della zona della Daunia. Nella sua caratteristica tecnica si presenta da un bellissimo colore rubino carico, molto apprezzabile nella sua morbidezza anche con una buona trama tannica, molto fine ed elegante nel complesso. Un vino che racchiude in sé tutta l'espressione di un proprio territorio, ma si può abbinare bene anche la cultura tipica culinaria della Daunia, che trova un buon matrimonio enogastronomico con i piatti tipici della zona di Orsare di Puglia. Questo che presentiamo è un blend, è un tuccanese, merlò e nero di Troia, altro tipico vitinio e tipico della zona Dauna. Come possiamo vedere nel bicchiere si presenta con un bel colore rubino abbastanza carico, al naso sprigiona evidenti note fruttate, quindi un po' ricordata la maturazione della prunia ma anche della marasca. A gusto si presenta abbastanza morbido, una buona e fine elegante anche tannicità. Nel complesso possiamo dire che un vino nelle sue peculiarità abbastanza equilibrato è molto elegante e fine nel retrogusto finale. Grazie 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 Grazie